amici di italiano per tutti eccoci alla puntata alla lezione dedicata alla ricetta e siamo in realtà come abbiamo già visto precedentemente alla arrivati all'ultima ricetta per diciamo per questa serie perché come sapete le ricette erano legate una ad una ad ogni regione italiana abbiamo visto l'ultima regione in elenco che era la sardegna e questa è la ricetta dedicata alla regione sardegna parliamo delle seadas che sono un dolce e vediamo come si prepara questo dolce sardo molto famoso in sardegna magari non così tanto famoso in italia ma comunque conosciuto e per però squisito veramente sono stato in sardegna e le ho provate allora un modo molto gradevole per imparare la lingua e la cultura italiane è conoscere le ricette e i piatti tradizionali dell'italia in questo video vediamo la preparazione di uno dei piatti sardi più conosciuti le seadas o sebadas si tratta di un dolce molto gustoso che unisce il sapore intenso del formaggio alla fragranza delicata del miele sono preparate sono queste che vedete qui sopra vediamo quali sono gli ingredienti uno ad uno allora gli ingredienti sono per la pasta 150 grammi di semola di grano duro e 150 grammi di farina 00 oppure 300 grammi di farina se non la trovate di semola 50 grammi distrutto se non lo gradite sostituitelo con il burro un pizzico di sale acqua per l'impasto per il ripieno cioè quello che viene messo dentro alle seadas 300 grammi di pecorino sardo dolce grattugiato o altro formaggio fresco scorza di limone o di arancia grattugiata e per ricoprire le seadas miele meglio se di arancio di corbezzolo o di castagno e poi olio di semi per la frittura ovviamente c'è la ricetta ufficiale che è quella non tra parentesi poi magari non si trovano i prodotti al supermercato al mercato e bisogna arrangiarsi quindi si possono sostituire in qualche modo con altri più o meno per avere la stessa lo stesso tipo di dolce andiamo alla preparazione del dolce la preparazione in una ciotola impastate le farine con lo strutto o il burro e un pizzico di sale aggiungendo poco alla volta acqua quanto basta per ottenere un impasto omogeneo ed elastico quindi la pasta lasciate riposare l'impasto per mezz'ora poi stendetelo in una sfoglia alta circa mezzo centimetro quindi fate una bella sfoglia ritagliate dei cerchi di plastica di pasta non di plastica di pasta di circa 10 centimetri di diametro quindi più o meno 10 centimetri di diametro misura a vostra scelta perché questo poi è la diciamo il corpo del dolce al centro di ogni disco mettete un mocchietto di pecorino che abbiamo grattugiato e cospargetelo con la scorza di limone o arancia quindi questo è il ripieno della seadas ricoprite ogni disco di pasta con un altro disco quindi chiudete con due dischi schiacciandolo bene per chiudere i bordi della del dolce quando tutte le seadas hanno il ripieno quindi sono pronte fate scaldare l'olio in una padella e quando la la temperatura è giusta quindi va in frittura pronto per essere per immergerle appunto immergete le seadas una ad una e fatele friggere frittura fino a quando ottengono un colore dorato estraete le seadas dall'olio fatele asciugare rapidamente su una carta assorbente quindi eliminate l'olio in più mettetele nel piatto e cospargetele con abbondante miele che abbiamo preparato prima dei gusti opportuni le seadas sono pronte e vanno consumate quando sono ancora ben calde allora non l'ho provato è molto buono questo dolce mi ricorda un po quello che solitamente in italia si usa per carnevale siamo quasi in quel periodo che sono le le bugie e bugie di carnevale sono questa pasta croccante che viene fritta però non hanno hanno più che altro molto zucchero ma non hanno il ripieno di pecorino questo tipo di ricetta mi ricordo un po quella che diciamo un po più diffuso nell'italia le seadas sono abbastanza di fuori ma sono specifiche della sardegna la ricetta è terminata avete preparato adesso ovviamente mangiate degustate provate la ricetta provatela con gli ingredienti che avete ovviamente fatemi sapere commentatemi come avete già fatto altre volte riguardo ad altre ricette vediamo se è buona effettivamente sicuramente credo che sia nulla togliere ma più buona quella che preparano ufficialmente in sardegna però credo che sia notevolmente mangiabile degustabile anche quella che proverete a farvi a casa bene la rapida lezione finita come tutte le altre ricette che abbiamo visto fino adesso questa è l'ultima ricetta inizieremo dalle prossime diciamo puntate lezioni nuovi argomenti interessanti abbiamo terminato le regioni con i loro personaggi abbiamo forse ancora un personaggio e nuovissimi argomenti interessanti sull'italia e sulla cultura prima di questa lezione che è la 170 ci sono 169 lezioni di tutti i tipi che spaziano dalla storia alla i personaggi famosi quindi ascoltatele guardatevi come sempre vi chiedo un like o un seguimi sul canale siamo su tutti i social quindi youtube come ci vedete instagram facebook twitter pinterest e google plus ci vediamo nelle prossime lezioni a mi dimentico sempre però questo si sa perché lo ripeto itapertutti.blogspot.com che è il blog sul quale troverete tutto in elenco tutti tutti i video già fatti e distribuiti per argomento come vi dicevo grazie per la vostra partecipazione e attenzione ci vediamo nella prossima puntata con altri argomenti di italiano per tutti ciao ciao